Abbiamo bisogno di regole in questo posto, ok? Allora facciamo così, litigate per la carne, giusto? Sì, ok Facciamo una gara, chi trova più carne diventa il capo, il capo tribù Ci sto, facciamo 15 minuti, che ne dite? 15 minuti per trovare più carne possibile? Sì, e ci ritroviamo poi qui al centro e le avvisiamo tutti Eh Marci, non fare lo stifone perché io ne ho trovati 24 di carne, ti avviso, eh Ok, facciamo una sfida Chi trova più carne in 15 minuti diventa il capo del villaggio Mi piace Ok, facciamo così Io metto pure il timer, siete pronti? No, aspetta, dobbiamo chiamare gli altri però Non mi interessa, ad altri mi hanno chiesto di termini Eh, così? Venite nella caverna di Nico Di Nico? È anche mia quella caverna Infatti Vabbè, è la caverna mia Di tutti, ok Allora, quindi, chi trova più carne in 15 minuti diventerà il capo del villaggio Siete pronti? Ma carne vale a uccidere Nico? No, no, no Carne di animale e carne cruda E non si può rubare dalle ceste di Kendal, ok? Intanto non ce l'ho più la carne nelle ceste Allora, facciamo così Do io il timer, siete pronti? Pronto Siete prontissimi? Vai, vai Alexa, imposta un timer di 15 minuti, ok? Correzzando Ah, ragazzi, è partita la sfida Dobbiamo trovare più carne possibile per provare a battere tutti, ragazzi Allora, io provo ad andare da questa parte Sperando che ci sia qualcosa di super interessante Mi sono preso la terra prima perché dovevo fare un altro episodio Quindi sono fortunato che riesco a scalare per bene tutta questa montagna incredibile Qua dietro, se vi ricordate, c'erano i mammut, se non sbaglio I mammut c'erano qua dietro Quindi dobbiamo stare attenti Erka, se riusciamo a prenderne qualcuno Ciao, amico Quanto me l'ho dato? Tre pezzettini? What? Ragazzi Io vado giù da questa parte In 15 minuti dobbiamo trovare più roba possibile, ragazzi Voglio arrivare almeno a 35 pezzi Secondo voi ce la facciamo a 35 pezzi Secondo me è fattibile Allora, qui non c'è più nessuno Dato che spawno Penso che spawnino in branchi No, non so se si dice branco I maiali Però spawnano tutti assieme Vi siete resi conto di questa cosa? Spawnano tutti cavolo assieme Quindi prendiamo questo bone sword Questo che cos'è? Che cosa mi dà? Mi dà della carne? Sì, mi ha dato della carne Frog leg Sì, 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 sì Bello questo rinoceronte Dammi della carne rinoceronte Brutto schifoso Ho bisogno della tua carne Oh Uh Due pezzi di roll large meat Perfetto, ragazzi Stiamo andando alla grande Per fortuna che mi ero craftato anche delle altre Delle altre spade nell'inventare Questa cosa qui è ottima Uh, ce n'è un altro qua Ce n'è un altro qua Ce n'è un altro qua Ciao Ehi, bellissimo Non mi puoi far del male Non mi puoi fare del male Non mi puoi fare del male Signor mammut Porca miseria Devi morire Devi morire Dammi tutta la carne Uh, uh Che cos'è questo? Vediamo Mi altro rom mammut brain Che comunque è sempre carne Giusto? Sì, 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 sì Perfetto Allora Vediamo se faccio qualcos'altro Devo essere ben carico Per fare tutto ragazzi Perché io voglio diventare il capo del villaggio Però non ce la farò mai Perché sono sempre sfortunato io Questa cosa non me la toglierò mai Ragazzi Sono sfortunato Non ci posso fare niente E non ci posso fare niente Non sto trovando più niente ragazzi Questa cosa mi sta urtando tantissimo Che cosa No, i serpenti Sì, i serpenti mi sa che danno la carne Raga Mi sa che i serpenti danno la carne Sì che danno la carne Raw reptile meat Ce n'è un altro qua Aspetta, devo fare F3B Cos'è almeno mi fa vedere l'eatbox Mi fa vedere l'eat No, no, no Non mi puoi uccidere tu, eh Non mi puoi uccidere, eh Campione Puoi morire Devi morire Porca Non riesco più a ucciderlo Ok, ne ho trovato un altro Perfetto Guarda quanti animali che ci sono qua ragazzi Oh mio Dio Questa cosa potrebbe essere la nostra svolta Cos'è questo? Il gorilla tipo Ma questo fa un sacco di danno ragazzi Ma questo fa un sacco di danno Aiuto 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 Sono morto ragazzi Mannaggia Mi ha ucciso un gorilla Devo assolutamente tornare dal gorilla Ma chi è che mi ha messo questa cosa qua? Io come ci torno su? Oh So dove sono morto Dove sono morto Ok Io so dove sono morto Vado a riprendermi tutto Sì mi ha ridato tutto ragazzi Mi ha ridato tutto Perfetto Io ho anche tutte le mie spade Tutta la mia carne Sì sì che c'ho tutto Sì sì che c'ho tutto Devi morire per adesso Mi ha dato la sua carne Fantastico ragazzi Fantastico Però bisogna mangiarmi queste mele qui E io vi dico la verità Secondo me Mi conviene colpirlo Farmi seguire Farmi seguire con calma Fare come l'iron golem Andare su di tre Adesso non mi segue più però Ciao sono qui Sono un tuo amico Sono il tuo amico bellissimo Allora Oddio mi sono rotta la co Mi sono rotta Oddio Oddio No non mi può uccidere 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 Ok l'ho ucciso io Perfetto Devo recuperare la vita adesso ragazzi Però Super complicato contro questi qua ragazzi Super mega complicato Sette minuti e venti secondi per noi Qua c'è della roba che Oh Belli loro Ragazzi questi danno un sacco di cibo Uh Ma questi qua Ok Aspetta Oddio Ho due cuori Ho due cuori Ok devo recuperare la vita Devo recuperare la vita Ok Recupera vita Questi qui ragazzi sono Sono carne free Questi qua eh Questi qui sono carne free Sono carne free No 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 Aspetta Ok Ok questi come se non scendesse dal blocco Perfetto ragazzi non scendendo dal blocco Bellissima come cosa Bellissima Ok Ok No 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 mi ha ucciso mannaggia Devo tornare Sì sì devo tornare Devo tornare Devo tornare Ok Ragazzi mamma mia Ma quanta carne ho di rattlesnake Qual è la rattlesnake Non capisco Rattlesnake ne ho sei Perfetto Qua c'è un altro tizio campioncino Ok me l'ha data subito Lì cosa c'è Lì c'è un altro gorrino No i gorilla ragazzi Lasciamoli stare dove sono Per cortesia Perché veramente Non li posso veramente vedere Mamma mia Fammi togliere sta cosa Che l'ho messa prima Ma volevo toglierla Perché volevo solo capire Com'era l'itbox del serpentino Che cos'è questo qua Chi è questo tizietto qua Oh mini liceo Oddio ma questo fa malissimo Ma fa tipo troppo male Fa tipo troppo male Fa troppo male Devi morire Devi morire Devi morire Ma mi ha ucciso Un ippopotamo Ok è morto Me l'ha data Sì che c'è la sua carne Bello questo Ok 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 è morto anche questo Ragazzi ma ne sto facendo tantissimo Due minuti Cinque sette Ma come due minuti Tu muori brutalmente Devi morire Devi morire Devi morire Devi morire Muori 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 E muori E muori Ok Abbiamo bisogno di un altro pezzino di carne Non male ragazzi Questa cosa non male Amici manca un minuto Ma non c'è più nessuno Mannaggia Ma è possibile questa cosa Diamine C'è qualcuno qua sopra secondo me C'è qualcuno qua sopra L'ho che è morto Da un Da una cosa alta Ok vediamo se c'è qualcuno davvero qua sopra Mi sembra ci fosse qualcuno In uno In uno di questi alberi Mannaggia No Vediamo se con l'f3b Lo vedo No Non c'è niente ragazzi Purtroppo non c'è più niente Allora facciamo la somma Ne ho tre Più nove Più cinque Più quattro Più sedici Più uno Più uno Eh Misa basta ragazzi Mi sa che ne ho troppi pochi Rispetto agli altri Mi sa che ne ho troppo poco Rispetto agli altri Sabe cosa voglio fare Volevo provare a tornare in quella zona dove erano sponati i maialini Guarda lì ce n'è uno Lì c'è ancora il coccodrillo Eh coccodrillo ragazzi non posso Il coccodrillo non posso Perché non mi fa troppo danno Non posso Stop Oh finalmente siete arrivati Eh campioni Sì Io ne ho trovati ben 287 Oh testa di scheletro Quanti ne hai trovati tu? Che vuoi? Io guarda Ripeto questi scheletri Eh eh Perché ho eliminato una flotta di mammut È solo scheletro È solo osso Ho avuto anche la possibilità di mangiare la carne che trependeva Bene guarda noi abbiamo vinto ma non glielo voglio dire ancora Ma che? Io vegano Diglielo Uuuuh Io vegano Io vegano ho trovato melle Tante buone Me ne vado Addio Io vado a dire ai miei fan quanti ne ho trovati Ciao 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 Amici Allora facciamo il calcolo assieme Abbiamo frogleg che ci dà un pezzettino Più tre pezzettini Più ovviamente si contano solo quelli che danno la cosciotta Più uno Quindi più uno Più nove Più nove Più cinque Oddio eh Secondo me non vinco io Più sei E più sedici ragazzi Vediamo un pochettino Quarantuno pezzi Non ho nient'altro È vero che dà qualcosa Tipo Questo qui cos'è? Core Pelt No Non dà nient'altro Va bene ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo video Andate a scoprire contando i video di tutti Quanto diamine hanno trovato gli altri Quanto diamine hanno trovato gli altri